Ciao bimbi! Io sono Blue! Guardate, oggi apriremo il calendario dell'avvento di... Karts! Oh, non vedo l'ora di aprire le caselle! Guardate che carino! Uscirà fuori proprio un bel alberello! Dai, iniziamo! Blue! La casa dei giochi! Questo calendario è davvero bellissimo! Però, mi raccomando, è per i bambini sopra i tre anni perché ci sono delle parti troppo piccoline! E guardate! Si potranno montare questi pezzi in tanti modi diversi così da avere delle piste davvero super! Potremo trovare tanti personaggi del mondo Karts! Facciamo un giro di scatola! Iniziamo ad aprire! Evviva! Abbiamo trovato per primo Saetta McQueen! Oh, che bello! È l'arco di Radiator Springs! Un pezzo della pista! Un altro pezzo della pista! Ancora un pezzo di pista! Ed ecco l'ultimo spicchio! Oh, ecco il sindaco Hudson! Che carino! Questo è un carrello per gli attrezzi! Sarà sicuramente un bel elemento per la nostra pista! Oh, un cono per la strada! Che carine! Sono delle pompe per la benzina! Dei barili! Oh, che carino! Questo è il flow caffè! Un altro pezzo della pista! Ed ecco l'altra parte! È arrivato Cricchetto! Oh, è troppo dolce! Una colonna di ruote! Un'altra pompa di benzina! Che bello! Un'altra colonna di ruote! Oh, ecco il cono di Sally! Un altro pezzo di pista! Che carina Sally! Oh, è proprio adorabile con questi decori di Natale! Un altro cono! Altri barili! Una ghirlanda! Oh, com'è carina! Oh, com'è carina! E al numero 25... Il puntale dell'albero! Ovvero la piston cap! Montiamo tutto! E' davvero facilissimo da montare! E' super divertente! Ecco, bimbi! E' davvero super carino! E' davvero super carino! E' davvero divertente! E' davvero super divertente! E' davvero super divertente! Ci vediamo presto, bimbi! E' davvero super carino! Ciao!